Crisi nera per la Turris che esce sconfitta anche dallo stadio Marcello Torre con il risultato di 2-0 in favore della Paganese. Una prova che mostra nuovamente le fragilità di una squadra che ormai da settimane non riesce più ad incidere. I corallini non sono mai stati concretamente in campo, lasciando spazio ai padroni di casa che ne approfittano, castigando la squadra di Torre del Greco. Prima la lete di Diop al 35esimo che spedisce in rete di testa sui sviluppi di un calcio di punizione di squillace. Nessuna reazione da parte della Turris che sprofonda in occasione della seconda rete degli avversari, siglata da guadagni su punizione, complice o non impeccabile a bagnale. La Paganese gestisce facendo i nervosi dei corallini che per la terza volta di fila chiudono il match in dieci con l'espulsione di dinunzio. Prestazione più che insufficiente che porta all'esonero del tecnico Franco Fabiano, comunicato ieri dalla società attraverso un comunicato stampa. Oggi si conoscerà il nome del suo erede per il quale si fa sempre più insistente in nome di Bruno Caneo. I tacchi di crocasse 57, reduce dall'esperienza con i rieti e che può vantare trascorsi da allenatore in seconda di Giambiero Casperini ai tempi del Genoa, prenderà molto probabilmente il timone di una squadra di Linsavia in toto. A partire dal prossimo match, in programma Ligori contro la Casertana, comincerà sostanzialmente un'altra stagione per la Turris, chiamata ad una scossa per raggiungere il traguardo della salvezza. I corallini sono ancora padroni del loro destino, ma serve quanto prima un cambio di passo per non compromettere la situazione.